a tutti ragazzi oggi voglio parlare di fila rolls che mi ha inviato questa stupenda borsa fila ross praticamente una ragazza che ha una passione per il cucito infatti mi ha commissionato questa borsa in cordino di colore blu davvero bella e particolare con la sua targhetta abbiamo qui i manici e qui dentro troviamo una fantasia la stoffa e poi abbiamo i bottoncini magnetici è davvero carinissima questa borsa vi lascio il sito qui sotto che potete trovare tantissimi altri prodotti che comunque fa lei artigianalmente con le sue mani e niente ringrazio ancora chi la ross grazie a tutti